Amici del software libro open source, benvenuti o bentornati in questa 195esima puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi come sempre le principali notizie nel mondo del software libro open source della settimana appena trascorsa. Come potete vedere se già mi seguite su YouTube, anche questa è una puntata video del podcast di Marcosbox quindi oltre ad ascoltare a mia sua dente voce potete vedere il mio bel faccino e potete vedere di volta in volta le notizie che vado a commentare prese dalle pagine di Marcosbox quindi con immagini, screenshot e quant'altro. è un modo come un altro per seguire il podcast di Marcosbox, è un modo che vi piace. E vi ricordo inoltre che per poter supportare il blog vi basta fare una semplice iscrizione al canale YouTube di Marcosbox mettere un mi piace e condividere i video in modo tale da far conoscere sempre più persone questo piccolo angolo del mondo Linux italiano. Quindi ci conto, mettete un bel mi piace, mettete una bella iscrizione perché vedo poi dalle statistiche che moltissime di voi che guardano i video di Marcosbox non sono ancora iscritti al canale. Sul canale video di Marcosbox non trovate soltanto le puntate del podcast ma trovate anche recensioni, video guide e quant'altro. Quindi non si parla soltanto delle notizie della settimana. Mettete, andate, mi piace, iscrivetevi, che cos'è che dicono tutti quanti gli YouTuber. Ma apriamo questa puntata del podcast di Marcosbox e passiamo a parlare delle notizie di questa settimana. La prima notizia di questa settimana riguarda il Raspberry Pi OS, il sistema operativo pensato per equipaggiare il Raspberry Pi perché c'è stata un'importante notizia riguardante l'aggiornamento del sistema operativo e il passaggio a Wayland per impostazione predefinita. Adesso Raspberry Pi OS appunto ha Wayland per impostazione predefinita. Ci sono vantaggi sia per quanto riguarda l'efficienza nel disegno delle finestre che anche una maggiore sicurezza perché adesso, grazie a Wayland, le applicazioni sono isolate a livello del compositore. Dopo anni di sperimentazione con diversi compositori, il Raspberry Pi ha scelto LabVC che è un compositore basato su VL Roots per sostituire Wayfire. Questo cambiamento è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione degli sviluppatori di LabVC e VL Roots che hanno aiutato a ottimizzare il sistema per l'hardware Raspberry Pi. L'aggiornamento include anche miglioramenti per l'uso del desktop con sistemi touch, come la testiera virtuale e il supporto per il clic destro e il doppio clic tramite tocco. Inoltre il Raspberry Pi Connect, sì, è stato anche un software che consente dell'accesso remoto ad essere integrato all'interno del desktop rendendo più facile il controllo del dispositivo da qualsiasi computer. Quindi se avete un Raspberry Pi correte ad aggiornare e fatemi sapere se questa nuova versione del sistema operativo porta davvero dei miglioramenti apprezzabili nell'utilizzo quotidiano e fatemi sapere come vi trovate. Io purtroppo non ho un Raspberry Pi e una mia grave mancanza, una mia grave colpa nel corso di questi anni. Mi sono sempre detto, sì, Molocombo, Molocombo, poi l'ho sempre rimandato. C'è stato poi il periodo in cui era schizzato il valore del Raspberry Pi, era aumentato il prezzo alle stelle. Vabbè, comunque fino alla fine me lo farò un bel Raspberry Pi. Magari crederò consiglio a Ricky, che è uno dei lettori di Marcosbox. Magari vi lascio poi anche il link al suo canale YouTube da qualche parte, anzi dal suo sito internet, al suo canale YouTube. Ve lo metto qua sotto. E passiamo all'altra notizia della settimana, ovvero il rilascio di Fedora Linux 41, che adesso è disponibile per i download sia nell'edizione principale che ovviamente nelle sue spin ufficiali con i desktop environment alternativi, perché, come sapete, il desktop environment predefinito di Fedora è GNOME. Quali sono le novità? Beh, questa novità porta con sé un nuovo gestore di pacchetti, il nuovo gestore di pacchetti DNF5. Per quanto riguarda gli utenti desktop, Fedora Workstation 41 si basa su GNOME 47, introduce un nuovo terminale chiamato PTYXIS, non ci potevano mettere un nome più semplice, vabbè. Fedora KDE Plasma include l'ultima versione, ovvero KDE 6.2, c'è anche una nuova spin con KDE Plasma Mobile. Inoltre, Fedora Miracle è una nuova opzione desktop basata su Mir, e Willian con gestione delle finestre e Tiling con animazioni fluide, che è una nuova opzione che potete scaricare, una nuova edizione che potete scaricare. Le varianti Atomic Desktop e Fedora IoT ora utilizzano un nuovo strumento chiamato Boot-C che sostituisce RPM e OS3 e offre maggiore flessibilità. Inoltre, Fedora One 2 ha migliorato il supporto per Secure Boot e le telegame MIPI nei nuovi laptop, integrando Pipewire in Firefox. Queste sono le principali novità di Fedora. Vi devo dire, anzi, l'ho installata prima di installare questo che vedete, che è Endeavor OS con KDE, l'ho installata per provare un po', però è subito rimossa per alcuni bug che mi erano capitati. Magari ve ne parlo in un video apposito, magari vi faccio passare qualche giorno per capire se era soltanto una sfiga momentanea dovuta a qualche pacchetto o qualche errore nell'installazione, non lo so, fatto sta che mi si era crashata, mi si era piantata la distribuzione dopo poco e non si riavviava più. Devo capire che cosa è andato male. Comunque, fatemi sapere voi se avete provato Fedora Linux 41, se l'avete installato con Qualy Desktop Environment, e, insomma, lasciate un commento. E passiamo adesso a il mio desktop environment preferito negli ultimi anni, anche se adesso, come vi dicevo, vi vedete su KDE, ma è una cosa soltanto momentanea perché voglio provare una cosuccia. Sto parlando ovviamente di Cosmic Desktop, che è il desktop environment nuovo scritto in Rust, realizzato da System76 per equipaggiare PopOS e per tutte quante le distribuzioni che vorranno utilizzare come desktop environment, che sono praticamente tutte quante, perché tutti quanti si sono buttate nel carrozzone e hanno deciso di offrirlo come desktop environment alternativo. È un desktop environment che mi sta piacendo molto, stanno facendo davvero le cose come si deve quelli di System76, stanno ascoltando molto la comunità, stanno collaborando con la comunità e a me piace. Ci vedo in un enorme potenziale. Come vi dicevo, come vi ho già detto in altre puntate del podcast, in altri video, a mio avviso, sarà uno dei desktop environment che se raccontenderà con Gnome e con KDE nei prossimi anni. È stata rilasciata, come vi dicevo, la terza versione alpha di Cosmic Desktop Environment, quindi sono state rilasciate le ISO aggiornate. Ovviamente, se avete già un'installazione di Cosmic, se avete già installato sulla vostra PopOS 24.02, cioè, vabbè, 24.02, vabbè, insomma, mi sto impappinando con i numeri. Se avete, insomma, già installato la vostra la vostra ISO con Cosmic di PopOS, potete già beneficiare di tutti quanti gli aggiornamenti che sono arrivati nel corso delle settimane. Se invece dovete fare una nuova installazione, vi potete scaricare la nuova ISO e avere già tutto il pacchetto compito con tutti gli aggiornamenti fino ad adesso arrivati. Fare le novità degne di nota di questa terza alpha ci sono i fonti di sistema personalizzati, il supporto iniziale per gli screen reader, che è una cosa che è stata richiesta a gran voce da moltissimi utenti, è stata richiesta anche da moltissimi degli utenti di Marcosbox che mi chiedevano ma com'era il supporto se mai sarebbe arrivato il supporto agli screen reader? Beh, stanno lavorando anche a questo. Attualmente Orca viene supportato da Firefox e dalle applicazioni di Gloom mentre il supporto per le applicazioni di Cosmic e per i menu di Cosmic arriverà il mese prossimo, quindi a dicembre dovrebbe arrivare il supporto completo per gli screen reader all'interno di Cosmic. Per quanto congene il supporto per i tasti scelta rapida di Orca questo funziona soltanto su PopOS perché è necessario utilizzare alcune patch su un componente di sistema quindi se la vostra distribuzione applicherà deciderà di applicare queste patch avrete anche il supporto per i tasti scelta rapida di Orca su Cosmic viceversa se volete un pieno supporto a Orca su Cosmic dovete scegliere la distro miraglio ovvero PopOS correte a scaricarla e fatemi sapere nei commenti come vi trovate se vi sta piacendo questa distribuzione e anche voi avete l'impressione che sia una gnome fatta come si deve perché alla fine quello è e passiamo adesso a parlare di un'altra notizia interessante di una distribuzione che arriverà prossimamente sui nostri PC che quando arriverà di sicuro farà strage di cuori perché ci saranno utenti di tutto il mondo che andranno a installarsi questa distribuzione KDE Linux una nuova distribuzione immutabile di KDE quindi diciamo così ufficiale basata su Arch Linux dovrebbe poi dovrebbe arrivare a breve nel breve periodo questa distribuzione questo progetto il nome in codice era il progetto banana il project banana che lo sviluppatore aveva nominato in questo modo questa questa distribuzione è stata ripresentata riproposta durante l'academy 2024 del 7 settembre e adesso finalmente è possibile testarla testarla sulle nostre macchine perché sono state rilasciate delle immagini RAW che possiamo utilizzare in macchina virtuale per poter provare questa distribuzione non va a sostituire a meno per adesso KDE Neon ma è pensata diciamo per farlo nell'immediato futuro perché 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 si sono accorti che chi ha provato KDE Neon lo sa ci sono alcuni problemini di stabilità che spesso si hanno con la distribuzione sia alcuni pacchetti che non funzionano alcune cose che si rompono senza motivo e questo è anche un paradosso se uno delle volte ci pensa perché KDE Neon nasceva con lo scopo di offrire KDE all'ultima versione KDE tutto il cucuzzaro quindi con anche le applicazioni free work e quant'altro diciamo era pensata per offrire l'ultima versione stabile di KDE di tutta il cucuzzaro su una base Ubuntu DTS quindi su una distribuzione che è considerata stabile per eccellenza quindi non dovrebbero esserci problemi però purtroppo ci sono stati diversi problemi in questi anni sul fronte stabilità perché il team di KDE Neon doveva fare diverse patch doveva caricare diverse patch per ottimizzare il tutto e questo spesso andava a rompere questa distro da qui la necessità da qui anzi l'idea di fare un progetto nuovo da parte di questo sviluppatore un progetto nuovo per KDE chiamato KDE Linux che è una nuova distribuzione di tipo immutabile basata su Arch Linux con file system BTRFS e basata su SystemD su tutti gli strumenti di SystemD quindi all'avanguardia sotto questo punto di vista e con anche preattivato Flatpak e Snap quindi la distro proprio quella perfetta per provare KDE e per provare le ultime tecnologie arriverà non appena sarà pronta stanno in via diciamo così stanno definendo il progetto ci saranno poi già hanno detto che ci saranno così come per KDE ci saranno tre edizioni di questa distro la Testing Edition con aggiornamenti quotidiani pensata per essere utilizzata dagli sviluppatori di KDE e da chi fa controllo della qualità c'è poi la Enthusiastic Edition per gli appassionati di KDE e gli utenti esperti con versioni beta e stabili e poi ci sarà la Stable Edition pensata per essere utilizzata come distro di tutti i giorni rivolta a tutti quanti gli utenti Linux l'edizione stabile avrà un programma di rilascio posticipato che darà priorità alla stabilità del sistema quindi non faranno come KDE che praticamente viene rilasciato l'aggiornamento di KDE e subito arriva backportato sulla listo è interessante è molto interessante questo progetto vi dicevo è possibile già provare seguendo le istruzioni che trovate linkate sulle pagine di Marcosbox dicevo è possibile provarla scaricandosi l'immagine RAW e utilizzandola con un virtualizzatore io ho provato ad utilizzarla mi si è mi si è sempre piantata devo capire dove sto sbagliando perché ho visto che altri utenti di Marcosbox l'hanno provata e questo è uno screenshot preso direttamente dal canale telegramma di Marcosbox dove un utente l'ha provata l'ha lanciata e diceva loro non stanno avendo problemi io sto avendo problemi dovrei capire che cosa va male nel mio sistema ecco perché poi ho installato anche Arch Linux per andare a capire se era un problema legato alla base Ubuntu o quant'altro quindi nelle prossime ore anzi vi saprò dire di più perché lo proverò a installare su Arch Linux fatemi sapere che cosa ne pensate di questa nuova distribuzione se se la proverete perché una volta che verrà rilasciata diventerà una dista ufficiale se sarà la vostra dista del cuore abbandonerete tutte quante le vostre distribuzioni per diare unico amore HPD e Linux io e questa è una cosa che dicevo da dico da anni sono a favore di questi progetti a mio avviso sia GNOME che KDE devono assolutamente avere una distribuzione loro devono avere un sistema operativo così come mamma l'ha fatto senza complicazioni senza problemi di compatibilità di pacchetti che magari possono sorgere perché alcune distribuzioni utilizzano alcune versioni pacchetti altre no alcune distribuzioni fanno un mischione che magari non utilizzano l'ultima versione di quell'applicativo l'ultima versione di di quell'altra cosa e quindi magari la distribuzione non è pura al 100% con il desktop environment puro al 100% come dovrebbe essere l'ho sempre ripetuto vi dicevo MBI SO deve esserci una KDE Linux e deve esserci una GNOME Linux e non vedo ora che nel prossimo futuro anche GNOME sia grini a questa scelta in modo tale da avere una distra di riferimento per tutte e due ci saranno poi le varie incarnazioni con le varie distribuzioni però avere un progetto per provare il desktop environment nella sua purezza è sempre cosa buona e giusta e immagino che anche GNOME se vorrà fare in un futuro una cosa del genere si affiderà ad Arch Linux perché offre diciamo le ultime versioni di pacchetti senza essere come altre distribuzioni che hanno rilasci semestrali cadenzati e quindi per questioni puramente temporali non possono offrirvi le ultime novità non possono darvi le maggiori prestazioni possibili sul desktop environment con tutti quanti i componenti di base sempre aggiornati vabbè ripeto fatemi sapere lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox e passiamo adesso a una notizia mi viene da rete per l'immagine che ho scelto come immagine di copertina per questa notizia allora nelle scorse settimane avrete sentito di sicuro parlare della cacciata di diversi manutentori di driver del kernel Linux che sono stati rimossi dalla fondazione X dal sviluppo del kernel Linux per via della loro associazione con la Russia quindi è stata fatta una vera e propria epurazione di sviluppatori russi tutti quelli che avevano mail associate agli indirizzi russi ma anche che magari lavoravano presso università russe e quant'altro questa notizia ha fatto discutere molto la comunità del software libero ha fatto discutere molto ovviamente come ci si aspettava da una notizia del genere c'è stata una polarizzazione quindi gente a favore e gente contro la decisione di escludere i contributori russi è stata fatta a detta dei manutentori del kernel Linux per conformarsi alle sanzioni internazionali anche Linux Torvalds è intervenuto sulla faccenda e con i suoi modi soliti modi gentili e pagati ed educati ha sottolineato che le sanzioni colpiscono anche gli stakeholder globali quindi al di là degli Stati Uniti affermando che Linux non sosterebbe mai individui o entità allineati con gli interessi russi nelle attuali circostanze poi sapete che è la cittadinanza di Linux Torvalds qual è quindi ovviamente da una da Linux Torvalds ci si aspettava anche un commento di questo di questo tipo era sicuro a seguito di questa di questa decisione di questa di questa cacciata il ministero dello sviluppo digitale russo il Mintir S3 non so come si pronuncia ha annunciato l'intenzione di creare una vera e propria comunità di sviluppo Linux indipendente quindi sul territorio russo e e quindi si parla anche si parla anche della volontà di fare un fork di Linux di un kernel Linux come io ho messo anche una la solita immagine di Bender che calza sempre perfettamente quando si parla di queste cose con Blackjack e Squigo di Russo la Russia considera questa esclusione discriminatoria e sta anche cercando alleanze con paesi disposti a collaborare su progetti open source russi con la possibilità di creare un vero e proprio kernel Linux una nuova propria versione del kernel Linux separata ovviamente gli esperti internazionali escludono che questa iniziativa russa possa realmente portarla all'indipendenza dei framework dai framework occidentali però secondo me no secondo me questo sarà una cosa che si ritorcerà conto questi molto probabilmente forcheranno così come hanno detto allora mantenere il kernel Linux non costerà non costerà nulla sapete che Linux viene utilizzato anche dalla Cina viene utilizzato anche addirittura dalla Corea del Nord quindi diciamo così gli alleati per creare una comunità brutta una comunità comunista di Linux non gli mancano e quindi probabilmente faremo il loro gioco e creeremo anche problemi nel kernel Linux creeremo problemi nella nostra comunità Linux anche se io confido sempre nell'intelligenza dei contributori ai progetti open source che sapete noi non guardiamo a bandiere non guardiamo a niente noi guardiamo soltanto alla crescita globale della nostra passione quindi contribueremo sicuramente a fornire contributi a destra la manca però purtroppo quando sono queste cose politiche poi si rischiano derive come quelle che ci sarà nel corso dei prossimi anni ci sarà sicuramente nel corso dei prossimi anni gli esperti secondo me gli esperti si sbagliano in questo punto si sono sbagliati già altre volte con con altre situazioni quando si parla di paesi comunisti vabbè comunque voi che cosa ne pensate di questa cacciata da che parte state fatemelo sapere nei commenti e sempre parlando di Linux c'è una brutta notizia una brutta notizia che riguarda che riguarda il supporto a Linux e la Steam Deck per Apex Legends perché EA ha deciso di eliminare il supporto la possibilità di giocare ad Apex Legends su Linux e quindi anche sulla Steam Deck questa decisione è stata presa per combattere l'attività di cheating perché a detta di EA Linux è la piattaforma che facilita alcuni trucchi difficili da rilevare a causa della crescita di tali exploit il team ha deciso di bloccare l'accesso al gioco da Linux sebbene ciò interessi soltanto una piccola parte dei giocatori quindi giocare ad Apex Legends sullo Steam Deck sarà ancora possibile ma soltanto tramite Windows o tramite Wine è una cosa brutta per noi utenti di Linux speriamo che EA ci ripensi nel prossimo futuro evidentemente come dicono loro non siamo ancora una percentuale di utenti interessanti che possono fargli comodo e quindi di conseguenza preferiscono metterci da parte e ultima notizia della settimana riguarda il rilascio invece di OnlyOffice Docs 8.2 che è la versione quella che possiamo installarci sui nostri server di OnlyOffice quali sono le novità principali di questa nuova serie di OnlyOffice la più importante riguarda l'editing collaborativo di pdf che adesso è possibile modificare i pdf in tempo reale con altri utenti è stata poi introdotta la possibilità di firmare i moduli pdf inserendo l'immagine è stata migliorata l'interfaccia quindi con nuove visualizzazioni per le schede è un tema grigio per ridurre le distrazioni e è stata migliorata anche sotto il profilo delle prestazioni adesso c'è un caricamento dei file più veloce esattamente senza interruzioni con l'apertura dei documenti fino al 21% più veloce rispetto alla precedente versione OnlyOffice è una suite io spesso utilizzo la versione desktop e installo anche a ignari utenti quando mi chiedono una versione di un office gratuito e che dire a me piace a me piace come si stanno comportando offre buone prestazioni ma soprattutto offre una migliore interoperabilità con i file proprietari Microsoft rispetto al LibreOffice ed è una cosa che continuo a ripetere molti di voi dicono tu che fai ti basi su questo sì mi baso su questo perché se io devo lavorare se io devo rapportarmi con il mondo esterno avere la compatibilità ma con i file più diffusi è sempre cosa buona e giusta è cosa essenziale altrimenti poi io magari mi si sbaglia completamente il documento e che faccio visualizzo male un documento lo stampo male un documento no le suite da ufficio devono essere in grado di funzionare di adeguarsi è brutto da dire di adeguarsi anche ai formati proprietari lo so ecco perché io dico sempre che noi non dovremmo batterci sulla suite libera ma dovremmo batterci di più per i formati liberi cioè fare in modo tale che si diffondano i formati liberi a livello europeo a livello italiano a livello globale perché avere un formato libero che si diffonda significa anche per noi avere maggiori maggiori facilitazioni e quindi avere anche per Microsoft una minore attrattività rispetto rispetto a quella che ha già perché se se io per gli edge tutti quanti bisogna si devono uniformare a un determinato tipo di formato libero che deve essere interoperabile mantenuto nel tempo e quant'altro e beh Microsoft si mette da parte perché dice si deve adeguare anche lì a corruzione si deve adeguare anche lì alla standard e quindi non ha più questa posizione dominante perché c'è anche LibreOffice che può aprire tranquillamente i documenti c'è anche OriOffice che può aprire tranquillamente i documenti c'è anche Calligre che può aprire i documenti quindi in quel caso la scelta della suite d'ufficio del programma spetta a noi non siamo costretti ad utilizzare Microsoft Office ripeto per me la battaglia deve essere fatta soltanto sui formati poi non lo so sono io che sbaglio lasciatemi un commento al riguardo e beh con questa ultima notizia si conclude qui questa puntata del podcast di Marcosbox io come sempre vi invito a seguirmi sui principali social mi trovate su Facebook su X su Youtube sulle principali piattaforme di podcasting fra i quali Apple Podcast Spotify Google Podcast non c'è sta più mi trovate anche su CastlePod mi trovate su LinkedIn mi trovate su Mastodon e soprattutto mi trovate su Telegram dove c'è un canale dedicato alle notizie di Marcosbox che potete utilizzare anche a modi feed reader diciamo così una community Telegram dove potete discutere di qualsiasi cosa non soltanto di Linux e poi abbiamo un canale dedicato alle offerte Telegram su Amazon che potete utilizzare per supportare il blog sapete come funziona voi acquistate da uno dei link affiliati e Amazon mi dà una piccola percentuale infine vi ricordo che potete supportare il blog anche acquistando o rinnovando la vostra VPN su NordVPN vediamo adesso qual è l'offerta del momento allora adesso mi sembra che c'è una bella offerta quella per il Black Friday dove dove dà fino al 74% di sconto sul piano quello biennale più 3 mesi extra quindi viene a finire 2 euro e 99 al mese quindi una sciocchezza la VPN è sempre cosa buona e giusta ad avere poi NordVPN sapete non ha soltanto la funzionalità VPN classica perché è anche la funzionalità Threat Protection che vi protegge dalle minacce se navigate anche da dispositivi Windows vi aiuta anche a bloccare le pubblicità quindi potete utilizzarlo anche come adblock diciamo così durante la navigazione quindi fateci un pensierino se avete bisogno di una VPN NordVPN con il link affiliazione che trovate sulle pagine di Marcosbox e così supportate anche il canale supportate anche il blog infine vi ricordo che potete supportare Marcosbox anche acquistando rinnovando anzi acquistando scusate un vostro rinnovando anche in questo caso perché se volete rinnovare il vostro parco hardware acquistando un computer della Geekom Geekom produce dei mini PC davvero potenti sono dei praticamente dei NUC belli e pronti con anche prestazioni notevoli sono ben fatti ben assembrati andatevi a leggere tutte le varie recensioni che trovate online sono ottimi prodotti e con il codice sconto GKMarco15 potete avere il 15% di sconto sui prodotti della Geekom come per esempio il Geekom A7 che è trovato in promozione a 764 euro 1,15 centesimi con il codice sconto di Marcosbox quindi se dovete comprare un computer nuovo se dovete prendere un mini PC affidatevi a Geekom e utilizzate il codice sconto Marcosbox che trovate vincato sul blog ecco questa ultima notizia si conclude qui questa puntata del podcast lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci rivediamo ci rivediamo la prossima settimana ciao ciao